La fiaccolata in onore di San Felice è diventato ormai un elemento tradizionale proposto a Nicosia ogni anno alla fine di maggio, quale componente del programma di festa liturgica. Molti sono stati fedeli che anche quest'anno, il 31 maggio, si sono incontrati nei pressi della Casa Natale del Fraticello Nicosiano, che predicò a Nicosia nella metà del Settecento, ma che viene ricordato, celebrato e tanto amato anche in molte altre cittadine del territorio vicino. San Felice è un frate Cappuccino, della riforma dell'ordine francescano nel 1715, è un periodo florido, soprattutto di tante vocazioni, infatti San Felice per alcuni anni è stato sempre rifiutato, ha bussato al convento, ma è mai stato rifiutato. La sua insistenza diverse volte, poi lo hanno, dopo tante volte, finalmente lo hanno accolto in convento ed è partito per il noviziato proprio a Mistretta, l'anno del noviziato. L'ultimo giorno di maggio si ricorda il momento in cui San Felice tornò alla casa del padre. Morì infatti il 31 maggio del 1787 all'età di 72 anni. La notizia della malattia del popolarissimo e venerato Fra Felice, sparsasi in un baleno, aveva gettato la città di Nicosia nella costernazione. E fin dal primo giorno era cominciato al convento, in questo luogo, il pellegrinaggio degli amici, degli stimatori, dei benefattori, dei poveri, dei ricchi, dei bambini, impazienti tutti di avere notizie. L'ultimo giorno, come se un presentimento arcano la sospingesse tutta la città, si era riversata lassù. Gli uomini, fatta irruzione nel convento, lo gremivano. Le donne, non potendo entrare, lo circondavano e facevano ressa d'intorno, agitate da un'ansia angosciosa. Era già notte e nessuno decideva di tornare a casa, per cui fu necessario ricorrere ad una pietosa bugia, assicurando che non c'era alcun pericolo imminente, che sarebbero potuti tornare il giorno dopo. La zona cara fosse morta in ogni famiglia e la città piombò nel lutto più atroce. Piangevano i poveri nei loro tuguri, gli infermi nel letto dei loro dolori, i ricchi nei palazzi e i fanciulli per le strade. Dopo un primo intenso momento di preghiera di fronte alla Casa Natale del Santo, a cura di Fra Salvatore Russo, padre guardiano del convento di Nicosia, i fedeli hanno acceso le fiaccole distribuite in loco ed in modo composto ed ordinato, nel rispettoso silenzio, rotto solo da canti e preghiere, si sono diretti in piazza Garibaldi, dove è avvenuta una sossa per una seconda preghiera. Hanno attraversato la via Fratellitesta e la via Roma per giungere ai piedi del monumento di San Felice nei pressi dell'ex tribunale di Nicosia, dove è avvenuta una seconda sosta per una terza preghiera. Infine hanno attraversato la via Umberto e sono saliti sino alla parrocchia di Santa Maria degli Angeli, innanzi al cui sagrato è avvenuta l'ultima sossa di preghiera. L'elemento di novità tanto atteso quest'anno è stato il successivo spostarsi del corteo sino all'ex carcere di Nicosia, un tempo convento dei frati nicosiani, dove tutt'oggi si trova ancora la celletta in cui dormì il santo copatrono di Nicosia canonizzato nel 2005. La cella, dopo la morte di San Felice, rimase chiusa anche nel periodo in cui i frati minori Cappuccini si trasferirono e l'edificio ex convento venne utilizzato come istituto penitenziario. Si racconta che molti detenuti si soffermarono innanzi alla cella del fraticello per trovare sul posto conforto in un momento di preghiera. Alcuni ospiti dell'eseduto penitenziario dipinsero ghirigori e frasi sulle pareti nei pressi della cella, altri realizzarono manufatti in legno dedicati al santo. Nella stessa serata del 31 maggio, quindi, dopo la fiaccolata, il corteo si è spostato dinanzi all'ex carcere, dove il vescovo della diocesi di Nicosia, Monsignor Giuseppe Schillaci, e padre Luigi Saladino, dopo aver raccontato il momento della morte di San Felice e dopo aver benedetto i presenti con le reliquie di San Felice, hanno tagliato un nastro rosso, apposto dinanzi al cancello. Quindi il cancello è stato aperto ed i fedeli presenti hanno potuto ammirare nel semplice cortile varcato per anni da molti detenuti una grande illuminata tau, la lettera dell'alfabeto greco con cui San Francesco d'Assisi amava firmare le lettere e le benedizioni, posta sotto una raffigurazione pittorica di San Felice. Come annunciato prima del taglio del nastro, non è stato possibile visitare la cella in serata, perché nella stessa non è presente illuminazione artificiale e dunque è necessario visitarla in un momento della giornata in cui il sole consente di illuminarla, ma l'emozione è stata comunque percepita sin da subito. Nella mattina del primo giugno, sin dalle nove, i fedeli sono tornati sul posto ed ingruppetti di massimo dodici persone hanno potuto finalmente visitare la cella del santo tanto amato. Per giungervi è necessario attraversare un corridoio che racconta la storia dei tanti detenuti, ospiti delle celle che precedono la stanzetta in cui visse San Felice. Beh, io ricordo che anni fa, quando cominciai a fare il noviziato, era aperto il calcere e uno dei nostri frati era cappellano. Io andavo con la chitarra per cantare durante la messa con i cacerati. Successivamente, dopo che sono andato sacerdote pure io, ho celebrato anch'io con i cacerati e andare lì dove c'è la traccia di San Felice è un'emozione. Tra l'altro mi ha fatto sempre pensare un particolare linguistico. Cosa vuol dire cella? Questa parola si usa per le celle caccerarie, però originariamente è una cella dei monasteri, dei conventi e c'era un detto medievale Cella tibi celumusit Per te la tua cella sia il tuo cielo cioè il luogo in cui ti raccogli orientando la tua mente e il tuo cuore verso Dio e sicuramente in quella cella San Felice ha fatto questo. Andava per le strade, andava a Tusa, a Pettineo, a Mistretta, dove ha fatto il noviziato è morto ad affermo però lì è il punto in cui ha lasciato una traccia identificabile Anche durante gli anni in cui è stato carcere, quel luogo quel particolare dove è stato San Felice è stato protetto cioè non è stato usato come una qualsiasi stanza di prigionieri ma come un luogo dove magari potrei leggere un libro, potrei pregare e questo mi ha toccato sempre. Poco prima della cella, appeso alla parete, un antico documento mostra un elenco di frati che hanno lasciato questa terra e vi appare segnata anche la scomparsa dell'umile servo di Dio, Fra Felice da Nicosia Sull'architrave della celletta si legge sia per l'amor di Dio, frase legata a San Felice Entrando, la semplicità del piccolo locale rispecchia quella del fraticello nicosiano Delle panche disposte sui lati portano allo spartano ambiente principale dove si può ammirare un inginocchiatoio in legno mentre alla parete è appeso un saio, l'abito religioso indossato da monaci e da nacoreti Poche le cose presenti ma grande l'impatto emotivo vissuto dai visitatori Al centro della scena è stato disposto il corpo in gesso, raffigurante il santo che fu donato dall'amministrazione di Mistretta nella metà degli anni 70 e che sotto le dita intrecciate delle mani sul petto offre la possibilità di conservare in un apposito spazio le reliquie ma che al momento non le contiene Evidenti le emozioni e la soddisfazione dell'avvocato Rosarita Barbera presidente dell'associazione Cammino di San Felice che tanto si è impegnata perché si potesse visitare la cella in occasione della festa liturgica del santo Questa associazione insieme alla Fraternitas San Felice e all'Ordine Francescano Secolare si sono occupate praticamente di tutto quello che è stato necessario per consentire tale visita alla cella Vorrei sottolineare oggi la nostra festa, la nostra felicità perché finalmente dopo 150 anni la cella di San Felice viene restituita al popolo di Nicosia viene restituita a tutti i fedeli sparsi in diverse parti direi del mondo Aspettiamo le comunità più vicine intanto Mistretta, Cerami, Rocca di Caprileone che hanno una grande devozione per il santo tutti i nicosiani che sono certa verranno qui sul colle dei Cappuccini vivendo un'esperienza a mio avviso molto forte perché non soltanto questa esperienza ci lascerà un messaggio silenzioso che è quello che è portato proprio dalla vita di San Felice dalla possibilità di entrare nel luogo più intimo della sua vita ma ci darà anche un messaggio potente direi perché per un certo tratto noi attraverseremo l'ex carcere di Nicosia un luogo di grande sofferenza come solo un carcere può essere noi siamo intervenuti per far sì che il demanio concedesse i locali al comune in maniera che noi potessimo così sovrintendere evidentemente la collaborazione fra gli enti potessimo sovrintendere così nella gestione momentanea di questa attività gestione che fino ad oggi la concessione è stata data fino all'11 giugno ma già abbiamo scritto per avere una concessione fino al 31 ottobre perché vorremmo anche collaborare col Fai per vedere se possiamo creare queste cellette e farle diventare il luogo del cuore ma è in itinere la concessione definitiva di questa parte del carcere per appunto creare questo itinerario religioso che conduce proprio alla cella di San Felice il comune ha avuto finanziato un progetto per la fruizione e riqualificazione del carcere dove in questo progetto sicuramente questa parte che sarà dedicata a San Felice e al turismo ecco religioso di San Felice resterà inalterato fermo restando che verrà integrato con altre potenzialità di questo meraviglioso sito che sicuramente dà un lustro al patrimonio culturale, storico e architettonico di Nicosia è importante per noi l'associazione dell'Avis perché finalmente i donatori della Sicilia possono incontrare il loro protettore io qualche volta l'ho vista anni fa venivo a fare il commissario per i detenuti perché facevamo la scuola eccetera andavo lì proprio per fare il commissario degli esami ed era un qualcosa di meraviglioso entrarci, essere lì in mezzo a questo adesso ho visto il percorso di nuovo che ci sarà ed è qualcosa di meraviglioso per quanto riguarda la fraternità siamo in un momento di movimento veramente assoluto perché stasera stasera il transito che ogni anno abbiamo fatto dopo domani per la festa del 2 giugno saremo sempre presenti e nella stessa cosa saremo presenti poi per quanto sarà la festa e ci metteremo in movimento veramente dopo il giorno 2 ci metteremo in movimento realmente per quello che è la festa di San Felice a fine l'ultima domenica di agosto Padre Luigi, lei è stato il vice postulatore della canonizzazione di San Felice una domanda un po' così è stato più difficile canonizzarlo oppure far aprire qua questa cella che da anni era chiusa? penso che fanno a gara perché per la canonizzazione immaginatevi che per sette anni abbiamo lavorato cercando documenti, presentando documenti e poi alla fine insomma il postulatore generale dice che è stato un miracolo la canonizzazione di San Felice per i documenti, per qualche obiezione fatta perché cosa ci fa questo santo del Settecento oggi e quindi comunque grazie a Dio il 23 ottobre del 2005 San Felice e San Felice l'abbiamo vissuto, è una emozione grandissima arrivare in piazza San Pietro e vedere la sua immagine già veramente ha toccato i cuori di tutti perché ce ne eravamo parecchi qui purtroppo la burocrazia lo sappiamo e quindi non è stato facile ancora non è detta l'ultima parola ma penso che il Comune ha promesso che si impegnerà insomma farà in modo di poterla visitare questa cella anzi sarebbe una grazia se potessimo utilizzare anche le stanze che sono vicine perché può nascere un piccolo museo di San Felice però siamo in attesa perché i progetti non sappiamo cosa comprendono pare che ci sono dei progetti in cammino e comunque intanto è una bella notizia per Nicosia perché io ci sono entrato per 18 anni però tanti Nicosiani non sono mai entrati lì e devo dire che le persone che sono entrate hanno provato un'emozione forte vedendo appunto quella stanza dove lui ha consumato la sua vita donandosi al Signore Cenza l'emozione di entrare dentro la cella di un santo lei è probabilmente il primo vescovo della diocese di Nicosia che visiterà questa famosa cella beh dal racconto intanto sia dei frati che poi anche di coloro che materialmente si sono occupati poi di pulire e riordinare e sistemare questo luogo io sinceramente non vedo l'ora proprio di arrivare di approdare in questo luogo così significativo così importante anche per la nostra comunità e poi venerare così un santo della nostra terra la sua umiltà, la sua semplicità la sua vita evangelica è stata una sorpresa, una piacevolissima sorpresa nessuno di noi era ancora convinto che potessimo riuscirci eppure grazie alla capabilità, al lavoro generoso che ha fatto Anna Maria Gemellaro attraverso il rapporto con il Demanio che voglio ringraziare, pubblicamente ringraziare finalmente abbiamo avuto questa possibilità è ancora una situazione temporanea però speriamo veramente di incalzare ancora il Demanio almeno per questa parte che riguarda la cella di San Felice e quindi tutto il cammino per arrivarci che sia una cosa definitiva che venga regalato alla comunità di Nicosia ma non solo di Nicosia alla comunità di tutti i fedeli di San Felice che sono tantissimi quindi ringrazio ancora Anna Maria per questo e ringrazio il Demanio poi volevo ringraziare l'associazione il Cammino di San Felice Rosa Rita Barbera, Santino volevo ringraziare un pochettino tutti per il grande lavoro anche di spinta che hanno fatto sul comune, sull'amministrazione per avere finalmente questa grande possibilità di visitare la cella del Santo volevo ringraziare la Fraternitas di San Felice l'MDT e poi tantissimi, tantissimi, tantissimi volontari che si sono prodigati in questi giorni per permettere le visite dall'1 al 4 nella celletta di San Felice un lavoro faticosissimo però appagante anche dal punto di vista proprio della dimensione dell'anima li ho visti tutti tutti erano contenti di aver partecipato a questo grandissimo lavoro di pulitura per permettere ai fedeli poi di vederli io ci sono stato sto tornando dalle cellette di San Felice il percorso è bellissimo, è suggestivo e poi si respira lì dentro un'aria magica che coinvolge i sentimenti di ciascuno di noi e quindi per questo invito tutti ma proprio tutti, tutti, tutti i nicosiani ma anche i fedeli di San Felice a cogliere questa occasione unica in questo momento dall'1 al 4 per visitarla ne sarà arricchita l'anima sicuramente io posso dire che oggi ho realizzato un sogno un sogno nel cassetto perché anni fa insieme al vice sindaco Gemellaro siamo proprio andati a Catania a Demanio a chiedere se era possibile avere la disponibilità della cella per promuoverla come luogo del cuore quindi è una storia che dura già da tanto tempo e oggi mi complimento con l'Avvocato Barbera per quello che ha fatto per restituirla alla cittadinanza e soprattutto ai fedeli si amplia la visita perché oltre alla Chiesa della Silva noi faremo una giornata fai d'autunno intanto per la cella di San Felice e poi parteciperemo al concorso dei luoghi del cuore quindi mi auguro che tutti i fedeli ma non solo la città di Nicosia voti questo luogo che per noi rappresenta tanto perché è il nostro santo è la nostra fede è possibile visitare la cella di San Felice nei giorni 1, 2, 3 e 4 giugno gli orari sono dalle 10 alle 12 e 30 e nel pomeriggio dalle 15 e 30 alle 18 e 30 e vi aspettiamo le prenotazioni sono gradite ma è possibile accedere con tranquillità rispettando quelli che saranno i turni di accesso grazie